Eeeeeee! Dai eeeeeee! Dai eeeeeee! Dai eeeeeee! Faccivo l'anno speaker per dirlo! Ok... Grazie a lei! 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 Vabbè! Ma posso? Ci voleva lo speaker per dirlo! E' un segnato! pure 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 segnuto! Moooooo nooo andiamo a Pagano Milano San Doria e si vede 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 Il presidente americano E' un'altra schiena E' un'altra schiena Merda, merda, merda 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 Lazioора Lazioora Lazioora come a me ora ma che ora entra Rocky Palpoa Rocky dove cazzo stai? Buffone Buffone